Diminuiscono le rapine in banca in Umbria. Nel 2017 infatti sono stati tre colpi allo sportello nella regione, tutti in provincia di Perugia, contro i 5 del 2016, con un calo percentuale del 40%. Nessuna rapina nelle banche del Ternano, lo riferisce l'Associazione Bancaria Italiana, l'AVI. La diminuzione, spiegato, conferma il trend positivo degli ultimi anni. Dal 2007 ad oggi gli attacchi sono crollati del 92,3%, da 39 a 3. È questa la fotografia che emerge dai dati di OSSIF, il centro di ricerca ABI in materia di sicurezza.